Gli ospiti si collegano al Wi-Fi dell'hotel con il proprio dispositivo Il login viene effettuato con il numero della camera e con il cognome Gli ospiti verranno quindi reindirizzati alla landing page dell'hotel Nella loro app di streaming preferita Dovrebbero premere l'icona del cast e scegliere il numero della stanza Ed è fatto Il contenuto apparirà automaticamente sulla TV in camera Le credenziali non vengono mai compilate sulla TV E tutte le informazioni sull'account degli ospiti vengono automaticamente cancellate dopo il checkout Garantendo un ambiente sicuro